L'aula consigliare di Felitto questa sera è gremita di gente perché si sta tenendo un importantissimo convegno ed è giunto qui da Cassino Claudio Santarelli, presidente dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Di che cosa state parlando? Stiamo parlando degli avvenimenti del 1799, quindi sull'epopea dell'esercito dei San Fidisti il capitano guidato dal cardinale Ruffo che ha visto protagonista anche il territorio occidentale tra cui Felitto che è come stanno relazionando gli ospiti, è stato anche protagonista di questi eventi. Noi abbiamo ristampato in modo anastatico un testo del 1801 scritto da Petro Masi su quegli accadimenti e quindi con il saggio introduttivo di Fernando Riccardi la stiamo presentando qui a Felitto grazie all'ospitalità del sindaco, di Giuseppina di Stasi, di Rosi di Stasi che hanno voluto che si tenesse questo convegno. Lei accennava l'importanza di questo volume per Felitto e per la Valle del Calore. Diciamo che è un'importanza per tutto quello che una volta era il Regno di Napoli e ci sono anche qui in questa zona, ha visto protagonista il Vescovo Ludovisi di Bolicastro e qui proprio anche a Felitto dobbiamo registrare in maniera molto obiettiva che ci furono degli sconti ferocissimi e di notevole crudeltà tra l'esercito della Santa Fede e molti classi dirigenti dell'epoca emergente che oggi chiameremo Borghesia che voleva ribaltare l'ordine di quel periodo che era l'ordine del Regno di Napoli a favore della Repubblica Napoletana. A moderare questo importantissimo dibattito storico che si sta tenendo qui a Felitto la dottoressa Giuseppina Di Stasi che è proprio una storica. Di che cosa si sta parlando nello specifico? Stiamo parlando degli eventi del 1799 e del Movimento San Fedista. Il titolo del convegno è Ideali e realtà dell'Opopea San Fedista con un taglio rivolto anche al territorio. Quindi è stato un convegno fortemente voluto dall'Associazione di Alte Identità di Cassino presieduta da Claudio Saltarelli però abbiamo voluto che all'interno di tradizioni mostre la manifestazione che contestualmente si tiene a Felitto oggi e domani sia stato presente un momento culturale ritengo di grande spessore per ripristinare degli eventi storici per noi fondamentali. Come è nata l'idea di portare appunto qui a Felitto storici di rilievo ad affrontare questo tema così rilevante? Riteniamo molto opportuno, data anche i tempi storici, far capire alle persone da dove viene la libertà, qual è il valore della cultura, quali sono appunto i punti di riferimento che dobbiamo consegnare alle attuali e future generazioni. Senza la storia è difficile costruire un futuro consapevole. L'Associazione Culturale Pasquale Oristanio presieduta da Rosi di Stasi Oristanio si è tanto impegnata per portare qui a Felitto questo evento culturale che si inserisce nell'ambito della manifestazione Tradizioni in Mostra e per sostenere appunto questa manifestazione ne parliamo proprio con la Presidente, un evento che sta riuscendo benissimo. Grazie, sì, veramente sono sorpresa. È stato tutto per caso. Ho incontrato la moglie del Presidente Claudio Saltari e allora abbiamo detto così, dobbiamo fare qualcosa qui a Felitto. Poi c'era anche il professore Melchionda che pensavamo di fare qualche cosa, allora ha detto dove non portarlo, è in Tradizioni in Mostra. e così abbiamo incominciato stamattina con un'escursione potanica nel vigneto di la Candina Rizzo e comunque volevamo cercare di portare qualcosa culturale qui a Felitto. Noi, la nostra associazione vuole impegnarsi per questo e sono veramente contenta delle persone che sono venute e di tutto.